Dove andava a mare da giovane? A Baccellicola. Dove? A Baccellicola. E cosa faceva durante il giorno? Vedeva le belle ragazze? Portava anche maretella? Io avevo ogni anno il 15 agosto, signor. Mi consumavo due preti di sapone, una a me e una a ciuccia. Costa peppe? Petra? Il preti di sapone, il vino è un sapone di piazza. Beh, sì. Una preti di sapone non mi consumava, quella a me è nata con la ciuccia. Se mi profumava, non ce ne doveva. Poi quando non tengo la ciuccia, non so giudiciamo. Quindi lei portava la ciuccia a male? Sì. Le faceva fare anche il bagno? La ciuccia mia, signor Moretti, aveva una brutta disgrazia. Come mai? Eh, signor, io mi sfudevo e portava l'acqua presa. No, che cosa? Sì. Una volta ci stavamo, non è? Una volta ci stavamo, non è? Una volta ci stavamo, non è? Sì. Sì. Allora, a giù ci si muoveva i sedi. Si stavano la vecchia, che stavano sciacquando le scelte di panna. Andavano... A giù ci si muoveva l'acqua, che si muoveva l'acqua in saponata. Signor, amici, per l'acqua in saponata. Signor, amici, per l'acqua in saponata. Andavano di arrella, per tutto questo. Poi cacao, per l'acqua, per l'acqua in saponata. Per l'acqua, per l'acqua in saponata. Festival del Podcast습니다. Asponata da Previ, passi. Asponata daップclare. A usc